Una banda di cinesi che con pistole e macete rapinava con nazionali. I carabinieri del comando provinciale di Gorizia, dopo un blitz congiunto a Napoli, Mestre Padova, Poggio Caiano, Campi Bisenzio e Reggio Emilia, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Gorizia e cinque decreti di fermo di indiziato di delitto emanati dal GIP del Tribunale locale. Secondo le indagini, la banda si sarebbe resa responsabile di due rapine in appartamento e sette furti e tentati furti ai danni di fabbriche e laboratori tessili diretti da connazionali. Inoltre, secondo gli inquirenti, durante i raid criminali avrebbero usato armi da fuoco e da taglio, comprese accette e macete e non avrebbero esitato a usare violenza sulle vittime imbavagliate legate con fascette di plastica. L'indagine si è rivelata particolarmente complessa per la ritrosia delle vittime, tipica dell'ambiente cinese, a denunciare le rapine e i furti alle forze dell'ordine, per paura di subire gravi ritorzioni.